bentornati alla nottola di minerva una rubrica in cui si analizzano in modo rapido e teleferico e compendiato le grandi opere filosofiche del pensiero occidentale procediamo con della ragione di stato di Giovanni Botero Botero è nato a Benevagenna nel 1544 e deceduto a Torino nel 1617 scrittore politico italiano appunto la sua opera principale il suo capolavoro è della ragione di stato che vide la prima edizione a Venezia nel 1589 reagendo alle teorie machiavelliane Botero tenta di conciliare ragioni di stato ed esigenze religiose ricordiamo velocemente che Machiavelli era assolutamente agnostico nel senso che dal punto di vista politico non gli interessava che la politica avesse una ipoteca morale etico-religiosa ma la politica seguiva per Machiavelli delle proprie leggi interne e irrinunciabili anche la religione per Machiavelli era vista come dal verbo latino religo-religare un collant politico che serviva però appunto per tenere assieme la compagine sociale tipico esponente della controriforma cattolica Botero mira a cancellare i confini tra gli scopi prefissi e i mezzi contestabili con cui perseguirli interessanti risultano le sue notazioni sugli aspetti economici e geografici degli stati che ne fanno innegabilmente un autore moderno e sulla prassi del governare che talvolta non può esimersi dall'impiego di mezzi moralmente discutibili